E' talmente obsoleto da non essere più riconosciuto neanche come sistema di sicurezza il blocco telefonico a cui era affidata la sicurezza sulla tratta ferroviaria Corato-Andria, sulla quale il 12 luglio scorso ci fu lo scontro frontale tra due convogli di ferro-tranviaria che provocò 23 morti e 50 feriti. E' quanto ha accertato finora la procura di Trani che ritiene che il ricorso al blocco telefonico sia quanto meno in contrasto con la normativa in vigore. I magistrati hanno acquisito atti dell'Agenzia sulla sicurezza ferroviaria che definisce obsoleto il blocco telefonico e rifiuta di occuparsi delle tratte in cui è attivo. Dalle indagini finora svolte dal pool di magistrati tranesi, coordinato dal procuratore facente funzione Francesco Giannella, sarebbe emerso che la corretta interpretazione della normativa ferroviaria in vigore non ammette, secondo l'interpretazione accusatoria, il blocco telefonico. Infatti il decreto del 1980 impone al gestore della linea ferroviaria di adeguare la sicurezza alla migliore tecnologia esistente. Il blocco ferroviario è il ragionamento degli inquirenti e la peggiore perché è la più arcaica delle tecnologie e la dichiarazione formale di obsolescenza dell'ANSF ne è la prova. L'USIF applica, secondo le indagini, regole diverse da quelle dell'ANSF e tollera il blocco telefonico. Quindi sul territorio nazionale, secondo i PM tranesi, esistevano ed esistono tuttora due tipi di sicurezza, di serie A, quelli automatizzati, e di serie B, affidati totalmente al controllo umano. Dopo l'incidente di Corato, il Ministero dei Trasporti ha delegato il controllo della sicurezza sulla tratta all'ANSF che a sua volta ha imposto limiti di velocità ai convogli e altre prescrizioni. Queste misure sono finalizzate ad attenuare il pericolo di altri grossolani errori umani come quello commesso dal capo stazione di Andria che ha fatto partire erroneamente il treno che si è poi scontrato con quello proveniente da Corato.